Ciao, sono Erika Puglisi della P Immobiliare. Oggi ci è venuta a trovare Irene. Irene è una ragazza giovane, ma con le idee chiarissime e un vulcano di energie. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Ciao. Eccoci qua con Irene. Ciao Erika. Ciao. Irene ha comprato insieme a me un appartamento, era pandemia, quindi era un periodo. Era un appartamento super ambito, periodo appunto, sappiamo tutti, un po' fermo, insomma, grazie ad Erika, guardando appunto gli annunci, mi sono innamorata di questo immobile e grazie alla sua esperienza, alla sua disponibilità, mi ha seguito passo a passo in tutte le fasi della compravendita, della ricerca del dontaio, quindi proprio da io completa neofita per prendere questo immobile uso investimento. ottimo. E alla fine ce l'abbiamo fatta, molto soddisfatta della scelta, l'ho ristrutturato poco a poco, è venuto veramente carino. Bene, molto. E da novembre, circa metà novembre, da quando siamo andati a Rogito ad ora, ho sempre, grazie all'aiuto e all'esperienza di Erika, le ho dato, diciamo, la possibilità di aiutare appunto nella ricerca delle persone da mettere in affitto all'interno. Bene, quindi un'ottima... Diciamo vendita affitto, un bel pacchetto. Sì. Molto bene. Allora consiglieresti quindi App Immobiliare? Assolutamente sì, perché hanno una grandissima esperienza, anche lo stesso proprietario precedente dava ottimi feedback, perché era un cliente storico loro, e quindi posso riconfermare esattamente quello che mi consiglio. Quindi molto molto soddisfatto. Grazie mille, grazie mille Irene e alla prossima. Sì. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.